Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video, io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale e oggi andiamo a concludere tutta la situazione Black Friday andiamo a concludere la situazione Black Friday parlando delle ultime offerte e di quello che arriverà a Natale nel mondo di Sky quindi iniziamo Allora, eccoci qua prima cosa c'è ancora le offerte sullo Sky Glass quindi Sky Glass in offerta se ancora non l'hai visto guarda il video precedente poi ci sarà qualcosa che è anche rimasto per l'offerta dello Sky Platinum e dello Sky Q Black quindi anche quelle stanno per terminare mi raccomando sbrigatevi se non l'avete fatto prima cosa iscriviti al canale, lascia un like e qui sotto mi puoi contattare direttamente per accedere a queste offerte poi passiamo all'ultima offerta di Natale l'ultima offerta di Natale è il pacchetto Sky, Sky TV con Netflix e il cinema che potrete avere che partono da 19,90 al mese per 18 mesi poi va a prezzo di listino poi tra 18 mesi si vede quello che si può fare e poi potete scegliere i vari tipi di Netflix Netflix normale, Netflix standard o quello premium i prezzi vanno da 19,90, 23,90 e 27,90 compreso del cinema quindi secondo me questa è un'opzione potete averlo sia tramite la parabola che tramite internet chi ha la parabola ovviamente ci sono più il sistema è molto più completo e possono avere queste grandi offerte quindi questo era un video per recapitulare un po' il tutto e per salutarvi e rivederci ai prossimi video quindi mi raccomando ci vediamo ai prossimi tutorial alle prossime novità la settimana prossima porterò altre novità sul canale e ci vediamo ai prossimi video ciao a tutti da Andrea Lanciotti il vostro tecnico digitale ciao ciao